I carabinieri della tenenza di Meldola nel Forlivese hanno arrestato i quattro componenti di una pericolosa banda di rapinatori. Le generalità dei quattro non sono state diffuse, dato che le indagini, è stato spiegato durante una conferenza stampa, proseguono e potrebbero avere ulteriori sviluppi. Il quartetto era formato da un operaio incensurato, residente a Forlì, da due individui residenti rispettivamente a Pavia e Vigevano, e da un albanese senza fissa dimora. Le indagini dei militari romagnoli si erano attivate lo scorso 7 di febbraio, quando una gioielleria nella piazza principale di Civitella, comune sull'Appennino Forlivese, e proprio a questo si riferiscono le nostre immagini, venne assaltata e razziata da due malviventi dopo aver legato e imbavagliato la titolare. In quell'occasione sparirono preziosi per un valore di oltre 50.000 euro. La pista investigativa partita da Civitella si è poi saldata con altre indagini in corso, sempre da parte dei carabinieri in Veneto e Lombardia. Alla banda, infatti, sono al momento attribuite almeno altre sette rapine commesse in quelle regioni, sempre a danno di gioiellerie, ma l'elenco potrebbe allungarsi ulteriormente. Sempre identico il modus operandi del gruppo. Nelle settimane precedenti alla rapina si recavano nella gioielleria come normali clienti, effettuando acquisti di scarso valore, ma sufficienti per farsi riconoscere dal commerciante. Questo permetteva poi di entrare nel negozio senza suscitare sospetti e cogliendo alla sprovvista la loro vittima. Denunciata per favoreggiamento alla moglie dell'operaio forlevesi, in quanto le intercettazioni avrebbero rivelato che la donna forniva al marito consigli su come comportarsi durante la sua attività proibita.